Parliamo di onestà. L'onestà non è abile e non è affatto astuta. Non le importa nulla di essere astuta. Non adopera nelle sue scelte l'astuzia, ma ubbidisce unicamente a se stessa. È intuitiva, ma solo nel discernere ciò che le rassomiglia da ciò che la offende. Non cerca vittorie, è costantemente disposta a perdere. La sola cosa che davvero le sta a cuore è non truffare, non frodare, non tradire né gli altri né se stessa. Vuole muoversi quando è possibile, non al chiuso o all'aperto, non nella notte ma nel giorno. Ama le vie dirette e detesta le vie traverse. Non si cura di essere derisa, umiliata, di essere considerata ingenua, di essere sola nelle sue decisioni e di essere priva di pungiglioni e di artigli. Quei pungiglioni e quegli artigli che la società di oggi tanto ammira e ama. L'onestà non vuole essere ammirata né vuole essere amata. Presta fede unicamente a se stessa e va dritta per la sua strada. Natalia Ginzburg